Ciao a tutti, oggi per i più curiosi un video che dura un minuto, ve lo commento, quando rimontiamo la testata di un furgone. Ragazzi non rompete la cicla di distribuzione, fatevi fare le manutenzioni che servono, perché poi quando si rompe i danni sono tanti e c'è tanto lavoro dietro. Adesso questo video per darvi un'idea proprio grossolana di come si rimonta la testata, l'abbiamo dovuta tirare giù perché ha piegato tutte le parti interne, le valvole per chissà cosa sono, e ve lo ho ristretto in un minuto solo. Immaginate quanto tempo ci vuole a richiudere un furgone di quel tipo lì e quindi purtroppo se fate questo tipo di danni a cosa si va incontro. Ciao a tutti. Ecco il montaggio, guarnizione testa, testa andiamo veloci come loro, poi vediamo che si è allineata, ok, ora prendiamo i bulloni, via i bulloni sopra, li stringiamo con la chiave dinamometrica e si riparte, si riparte con la parte degli alberi a cam, una bella pulita, una bella oliata, una bella sistemata sugli alberi a cam, li stringiamo bene tutti, mettiamo la cinghia di distribuzione, ecco l'aspetto, ecco lì, sei veloce Sabino. Cinghia di distribuzione, incontriamo ovviamente che quando gira sia tutto in ordine, carter, nel senso che si fa fare due giri all'albero motore, per vedere che non tocchi, quindi carter, ventola, radiatore, calandra, che velocità ragazzi, stringiamo un po' di viti in giro, adesso gli mettiamo sul suo bel musetto, poi si mette l'acqua, lo scaldiamo e tutto quanto, ecco questo è un estratto un po' generale del montaggio, non c'è voluto un minuto a farlo, c'è voluto un pochettino di più, eccolo qua, che abbiamo finito, ciao a tutti!